Per loro libero di militare. Eh sì, ma io devo, eh? Ma noi siamo già stragazzati. Cosa avrà combina? Sì. Cosa avrà combina? Ma non finì. Porca miseria. Ma. 5 gigabyte di file. Ma non finisce qui. Infatti, incontreremo tanti altri volti. Come. Dove essere tutto attaccato, no? Eh sì. Comunque. Ah, vedo solo ora che a chiamarmi la professoressa Ome. Ah sì, che stolto. Solo ora ricordo che mi aveva detto che mi avrebbe contattato. La rifaccio questo ultimo. Però si gira. Leggila! Questa cosa qui sta andando nei groupers, è proprio... Ritter, ti stavo per dirlo! Dai! Ciao, sono la professoressa Ampervoltinaum. Studio le modalità di funzionamento della progressione transitoria tra epoche ed è un po' che sto tendendo ad incontrarvi, ma non sono la sola. Io sono Mai, sono un asso nello studio e ho dimenticato la mia battuta. Leggila! Ok... Però sbrigati! Ok... Comunque, ne vedrete delle belle. Perdonate mio fratello, sono Sally. Sappiate che non vediamo l'ora di conoscervi e di vivere esorbitanti avventure con voi a giugno. Grazie a tutti! 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 Grazie a tutti!